Contemplando l'umiltà di San Giuseppe, che aveva detto anche lui sì alla volontà di Dio. Allora, fratelli e sorelle, termino chiedendo come sempre l'intercessione della Vergine Maria, l'intercessione di San Giuseppe in questa domenica, loro che sono i protagonisti principali del Natale, che ci aiutino a viverlo bene, questo Natale, nella fede, nell'amore, nel perdono. Noi dobbiamo vivere questo Natale, non il Natale di molti che pensano al consumismo, alla cena, ai regali, tutte cose buone, tutte cose belle. Anche San Francesco diceva, quando un frate gli domandò, padre Francesco, ma se il Natale cadesse di venerdì, dobbiamo fare digiuno? E Francesco gli rispose, no figlio mio, anche i muri devono essere imbrattati di grasso, le bestie devono avere fieno in abbondanza, bisogna far festa perché è nato il figlio di Dio. Ma la festa vera, che non è la festa di Babbo Natale, è la festa di Gesù Bambino, è la festa della famiglia, è il giorno in cui la famiglia si incontra per far festa ed adorare questo bambino. Sia lodato Gesù Cristo.